Sono Rossella Canevari e sugli ascoltabili conduco tutte le famiglie felici. Iniziamo con Giulia, la sua compagna, e Milo, il loro bambino. Non è stato facile, ma la loro è una famiglia felice. Vi aspetto su tutte le piattaforme degli ascoltabili e anche ovviamente sui social Twitter, Instagram, Facebook. Ciao! Grazie a tutti